Ciao a tutti, bentorni al mio canale, io sono Gerli e sì, oggi starò facendo un piccolo story time. E come lo potete vedere dal mio outfit vi starò parlando di alcuni ricordi che ho io del Natale, di alcuni regali che sono difficili da dimenticare ed altri che vorrei scordarmi proprio. L'anno scorso ho fatto il tag natalizio o di curiosità natalizio, ve lo starò lasciando qua sopra. Quest'anno volevo fare o rifare il tag, però non aveva senso perché ho visto che le domande erano quasi le stesse. L'unica cosa che devo dire è che, non lo so se che io sono ingrassata, però io sento che quest'anno questo vestito qua mi sta massacrando, qua cioè, guardate, però di qua sotto no, guardate dietro come sto, normale, però qua proprio sto così, quindi ecco perché mi vedrete così seduta. E questo già non inizia bene, ormai il vestito non mi entra. Va bene detto questo, iniziamo. Allora, il primo ricordo che ho io di uno dei miei primi regali natalizie, natalizie, rimonta più o meno quando avevo tipo 3-4 anni. Io mi ricordo che stavo dormendo, è venuto papà, mi sta svegliando, mi diceva, Herli, Herli, è arrivato, è arrivato. Perché da noi, faccio un parentesi, da noi i regali li porta il bambino Gesù, cioè nella mia famiglia e nelle nostre tradizioni, i regali li porta il bambino Gesù. E mio padre mi svegliava, Herli, Herli, è arrivato, è arrivato il bambino Gesù. E io avevo tipo 3-4 anni, cioè 3 anni, è il ricordo più vecchio che ho io di questi, di miei regali. E mi ricordo che quell'anno mi ho portato una macchina gialla della Barbie che era a telecomando, però il telecomando non era così come adesso, no? E c'era proprio un filo attaccato tra il telecomando e tra la macchina. ed era a batterie, e c'era pure il telefonino, la Barbie, era tipo una Corvette, va bene, se ritrova una foto, se trova una foto anche nel web, vi la cero qua, è molto vecchia questa macchina, lo so. Però a me piaceva. Ce l'ho ancora quel ricordo, certamente con il passarelli anni quel ricordo è più così come appannato, così come che... Però è un ricordo che non lo so, mi è piaciuto molto, mi commuove adesso pensare a mio padre che ormai sono 12 anni, 12 no, più di 12, 15 anni che non ci vediamo. E va bene, va bene, non pensavo che mi commuvesse questo, davvero, davvero, davvero. Quindi andiamo avanti nel tempo. Il secondo ricordo che io ho... Mi sembra che era tipo quando avevo 5 anni, 6 anni, può dar sì. In pratica le avevo chiesto al bambino Gesù una bambola che dondolava il suo bebè. E io e le mie cugine mi sembra che le abbiamo chiesto lo stesso perché anche una delle mie cugine, non mi ricordo quale. E mi ricordo che era un pomeriggio e noi ci hanno portato per tagliarci i capelli e a fianco c'era una venta di giocattoli e le abbiamo visto e abbiamo detto guarda quella, quella lì che noi vogliamo. E guarda caso che quando è arrivato il bambino Gesù ci ha portato la... La... come si chiama? La bambola. Era una bambola così e aveva le mani... Non mi ricordo se era così, però tu le mettevi lì al bebè e aveva una canzone e lei faceva tipo così. Mi piaceva tantissimo, tantissimo. Ricordo più la bambola che il bebè, secondo me io, sulle mani le mettevo tutto tra nel bebè. Però mi ricordo molto molto questa bambola. Allora, a noi in Venezuela, almeno nella mia famiglia, i bambini andavano a dormire. Poi a mezzanotte ci svegliabano e ci dicevano E' arrivato il bambino Gesù! Quindi noi ci svegliabamo, scartamo il regalo e poi tornavamo a dormire e poi dopo la mattina seguente continuavamo a giocare. Era molto diverso, almeno nella mia famiglia così, o almeno con me hanno fatto così i miei genitori. Poi mi ricordo una volta, e questo è un bellissimo ricordo che mio padre Adesso che ci penso, secondo me era mio padre che mi svegliava, sì, sì. Perché mi ricordo che lui mi ha svegliato Herli, 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 svegliati, svegliati! Che è arrivato il bambino Gesù, però mio padre era agassato, era molto molto contento e mi diceva cerca cerca, io avevo tipo sette anni, questo ricordo sì che ce l'ho più fresco e mi diceva cerca cerca, e io cercavo perché a casa mia non c'era l'albero già ve l'ho spiegato in alcuni video, non c'era un albero di Natale, c'era soltanto il presepe quella volta io dovevo cercare e io cercavo e non vedevo, non vedevo il regalo io tutta disperata, disperata, alla fine sotto il bar, non lo so se si chiama bar in Italia e stava lì la bicicletta ed era blu elettrico, cioè io quando l'ho vista una felicità, una felicità, che bello, che bello io la bicicletta, la bicicletta, va bene, io contenta il giorno dopo papà mi ha portato al parco ovviamente io non sapevo ancora andare con la bicicletta a due ruote quindi mi ricordo che aveva le rotelle dietro, le rotelline dietro poi piano piano mio padre mi ha fatto imparare poi quando avevo nove anni viene mio padre con mia zia che non c'è più vi ho parlato di lei in un video, quello di quando sono escapata di casa è venuto mio padre con mia zia e mi hanno detto devi esprimere un desiderio e mi hanno attaccato sul dito un filo quando noi ti faremo il nudo tu esprimi il desiderio e così mi hanno attaccato un filo qua c'è un filo, un filo, un filo, quello di cucire quello che, ah perché mia madre faceva la sarta ecco perché c'erano i fili poi dopo passato il tempo arriva il bambin Gesù mi ricordo di aver trovato una scatolina piccola e sono rimasta un po' strana, un po' male perché io non ero abituata a fare le lettere per il bambin Gesù però sempre chiedevo, dicevo voglio questo, voglio quello più o meno quello che ricordo io e ho visto questa scatolina così piccola, era proprio così e quando l'ho aperta c'era un anello un anello molto bello, aveva, e dico aveva perché me l'hanno rubato aveva due rubi, cioè due rubi e uno zaffero era molto piccolo, cioè per una bambina di nove anni era bellissimo questo è stato il primo, sì il primo, il secondo anello che mio padre mi ha dato io ero felice, io adoravo perché erano due rubi rosi rosi e lo zaffero era trasparente, sembrava un diamante, una cosa del genere molto molto carino e adesso voi capite il perché mi hanno fatto fare il filo perché mi hanno preso la misura poi ormai ero più grande, capivo alcune cose ed altre no e per Natale già avevo chiesto una borsa era una borsa trasparente così, quadrata era andata di moda a quell'epoca che qualche anno fa l'ho vista e quando l'ho vista mi sono ricordata io l'avevo chiesto trasparente a mia madre però mi è arrivata di colore nera mi sono arrabbiata perché io la volevo trasparente mamma mi ha detto no perché ti vedranno quello che hai dentro va bene, è stato così come che io la volevo trasparente perché è arrivata nera, va bene, avevo tipo undici anni avevo un po' più di volevo esprimermi era così mi sono saltata una una di quando avevo otto anni mi sono saltata questa quando avevo otto anni non mi ricordo che cosa avevo, che sto io però mi era arrivata tipo una culla che non era culla, era tipo se posò, vi inserisco una foto presa sul web però in miniatura, era così si estendeva, si piegava tutto come quelle grande cioè era uguale, identica però una scala ridotta con una bambola io quando l'ho vista e l'ho vista mi sono un po' rimasta male perché io volevo era una altra cosa sinceramente non mi ricordo che cosa volevo però io non volevo bambola perché secondo io otto anni, io ero una signorina io ero adolescente io non lo so che mi passava per la testa non mi piace, anzi io acabo più con il... alla fine giocavo giocavo più con la culla che con il bebé il bebé mi sembrava brutto cioè non era un bebé così tipo un ciccio bello era una cosina cioè non mi piaceva per niente e io non sono stata una bambina capricciosa io sono stata sempre tranquilla cioè se mamma mi dava una cosa io l'ho accettato però a volte rimanevo male sappiamo che a quell'epoca avevo un'età è normale che un bambino di otto, nove anni rimanga male per qualcosa però io non facevo né le maracchelle, né i capricci niente cioè io sono rimasta male e basta non ho fatto capricci e niente sono stata tranquilla sempre, sempre sono stata tranquilla poi quando avevo 14 anni mi hanno regalato già era da parte dei miei genitori era tipo una radio bella, grossa, era cioè immensa, immensa io mi ricordo che quel anno avevo espresso il desiderio che volevo una tastiera io mi ricordo io volevo una tastiera perché volevo imparare a suonare il piano mio padre mi aveva detto di no di là, di qua all'epoca c'era questa cosa che si inseriva per ascoltare la musica già ormai andavano anche i cd però mio padre mi ricordo che mi aveva detto che no che quando lui era più giovane c'erano i vinili quelli più piccoli che erano ucciti e poi che era stato un flop che tutti quanti usavano il vinilo quello grande certamente lui secondo la sua esperienza pensava che i cd erano lo stesso ed ecco perché non mi aveva comprato questo questo radio come si chiama per mettere i cd però con un cassetto poi a 15 anni questo Natale sì che è stato un po' difficile perché i miei già stavano divorziando cioè c'erano problemi interni in famiglia e mi ricordo che quell'anno non mi hanno regalato niente per Natale niente però mio padre è arrivato a casa verso il 28 27 ed è lì che è arrivato il bambin Gesù cioè da parte loro mi hanno regalato delle collanne delle collanne tipo collanne come delle catenine d'oro però non erano oro era fantasia questi bijucos da lì in poi i regali cioè a volte non ce l'avevo cioè da lì in poi fino a fine fino adesso e a volte no a volte sì a volte un pensierino mi ricordo una volta già visto che sto parlando quando avevo 15 anni verso no non ero non avevo 15 anni avevo 16 anni e io mi stavo già per per prendere il diploma si dice del liceo cioè già per andare all'università mi ricordo che era la festa di Natale di Tutteno la tutora ha fatto una festa a casa sua e dovevamo cambiarci i regali il gioco si chiama l'amico scusatemi l'amico segreto e mi ricordo che a quell'epoca già i miei genitori si erano divorziati si erano separati mamma abitava nella sua casa mio padre in un'altra casa e io ero rimasta con i nonni perché il liceo mi stava più vicino a casa di mia nonna che a casa di mia madre quindi io da mamma andavo tipo venerdì e ritornavo domenica o lunedì pomeriggio a casa dei miei nonni e io mi ricordo che non avevo soldi per comprare un regalo al mio amico secreto cioè io mi ricordo allora l'amico segreto si gioca in Venezuela che in una busta si mettono tutti i nomi tutti i partecipanti ognuno caccia un nome lo guarda lo guarda e si lo mette da parte e poi alla fine un giorno X un giorno qualunque ci mettiamo tutti d'accordo e ci scambiamo un regalo io do a te tu a quello quello a quello così e tutti quanti ci diamo un regalo fino a che torna a te io mi ricordo che non avevo soldi per comprare un regalo cioè stavo a casa di miei nonni e le stavo dicendo no 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 il mio nonno non mi ha dato i soldi alla fine l'ho pregato a mio zio gli ho detto zio per favore io devo andare alla festa a fine anno di qua di là e non posso andare a mamma che ha i soldi perché è lontano e il fatto è che mio zio mi ha dato un po' di soldi quel po' di soldi sono riuscita sono riuscita a comprare tipo un bastone così di plastica era di plastica trasparente molto carino e dentro c'erano tipo come degli eminems qualcosa con un fiocco carino era più un regalo da donna che da uomo però io dovevo darlo a un ragazzo no perché era quello che mi aveva toccato nella busta sono arrivata lì alla festa abbiamo mangiato stiamo tutti lì e poi è arrivato il momento di consegnare i regali allora si alza il primo io gli do a quello si alza il secondo io gli do a quello si alza quello 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 alla fine è arrivato un momento che si è bloccato il gioco perché magari mancava qualcuno non so alla fine mi sono alzata io gli do a quello che si è bloccato il gioco e mi sono arrivata e a me nessuno mi ha dato cioè io ho pregato a mio zio che dovevo andare là e a me nessuno mi ha dato niente cioè niente 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 non mi ricordo se che quella persona non è venuta o lo ha detto così guarda non ho portato niente non sono rimasta male no no davvero questa volta non sono rimasta male perché va bene io ho capito e capivo quella persona che si era trovata nella stessa situazione mia però io ho avuto la fortuna di avere mio zio che mi aveva dato i soldi invece questa persona che alla fine non ho saputo mai chi era non mi ha dato nemmeno curiosità di sapere chi mi doveva dare il perché cioè niente vi lo posso giurare niente siccome io mi trovo in quella situazione di non avere nulla e grazie a Dio mio zio mi ha salvato e quindi ho capito cioè quando c'è c'è quando non c'è e non c'è va bene io vi mando tanti besitos e ci vediamo prossimamente ad un prossimo video e buon Natale se in questi giorni siete occupati perché state facendo le compere all'ultimo minuto va bene vi auguro buon Natale tante cose belle ciao